Sì certo, ho scritto perché penso che si debba prendere atto e si debba anche prendere dei provvedimenti. In Italia questo è un reato e dunque non si può dire semplicemente che Facebook non si occupa della legislazione nazionale ma solo di polisi internazionali, anche perché il nazifascismo è stato un fenomeno che ha colpito tanti paesi e tanto sangue è stato speso per liberare l'Europa da questa occupazione. Quindi penso che bisogna provvedere e io mi auguro che venga fatta una riflessione su questo e mi auguro che ci sia un segnale positivo.